buongiorno compagni di via questo è l'ottavo video della serie il laboratorio umano del purna yoga e continuiamo a seguire il cammino di sat prem che finalmente si stabilisce a pondi e comincia ad entrare sempre di più nella atmosfera e nella coscienza di mer e a comprendere il valore grandissimo del loro insegnamento di dell'insegnamento di scelio robindo di mer e in una lettera del 1955 a clary scrive non si tratta infatti di credere ma di sperimentare ma questa sperimentazione è possibile farla senza pericolo soltanto quando uno è arrivato già ad un certo grado di sviluppo della coscienza ecco appunto perché contrariamente alle religioni che cercano di reclutare nuovi fedeli i mistici sia nell'antica grecia in egitto in india hanno sempre tenuto al segreto all'iniziazione è una segretezza necessaria altrimenti si rischia di degradare una verità che non può essere compresa da tutti e che anzi se mal compresa può addirittura far male si rischia di mettere le persone ignoranti e impreparate in presenza di forze altrettanto tangibili del fuoco e che se non sai dominarle ti possono anche bruciare questa considerazione è molto attuale anche se ormai c'è il discredito della figura del maestro della figura di chi ti guida in questa strada perigliosa e c'è ancora il concetto del valore della iniziazione della segretezza oggigiorno c'è questa grande superficialità con cui le persone si avventurano in questi cammini e certe volte fanno esperienze superiori alla loro portata che creano e io ne ho visti vari di casi un vero e proprio una vera frantumazione dell'io l'emergere anche di disturbi psicotici la struttura dell'ego che non è sufficientemente lavorata che la sua persona esalta ancora di più le ombre sia quella che jung chiamava l'inflazione dell'inconscio collettivo l'inflazione degli archetipi l'inflazione dell'ombra stessa continua dicendo quando nella mia ultima lettera ti dicevo che l'esperienza interiore è davvero quella cui tutti senza eccezione devono arrivare non intendevo dire che la verità sia la stessa per tutti contemporaneamente volevo dire che l'evoluzione di tutti gli esseri tende per vie diverse verso lo stesso punto e che vita dopo vita ogni essere evolve verso quel punto mi riferivo insomma ad una verità su scala cosmica non alla scala di una breve vita individuale anche questa è un'altra considerazione che dobbiamo sottolineare su cui bisogna riflettere ancora più nel purna yoga è necessario comprendere che pur avendo un punto in comune un punto infinito direi in comune ognuno deve trovare il suo modo di coniugare il percorso spirituale ognuno deve trovare e formare col tempo la sua sadana ci sono varie vie adatte al temperamento di ognuno e non dovremmo alla leggera scegliere così per sentito dire o semplicemente per attrazione ma con un discernimento attento e con una saggezza in un'altra lettera clarì parla dell'ashram e dice prima di parlarti di questo ashram quello di pondisceria ovviamente è opportuno dirti qualcosa della filosofia vedantina di ramakrishna non bisogna infatti credere che tutti gli ashram siano uguali in tutti si cerca di realizzare il divino ma il divino ha molteplici aspetti ecco perché gli indiani vagavano spesso da un ashram all'altro prima di trovare il loro guru cercano perciò di liberarsi di un mondo che appare loro fantasmagoria ignorante ingannevole illusione ingannevole illusione questa è la ricerca di colui che si avvia nel percorso spirituale liberarsi quindi di un mondo che appare fantasmagoria ignorante ingannevole illusione per loro vivere nel mondo è solo un pretesto un mezzo un'occasione di realizzare il sé trascendente sicché prima uno si sbarazza delle ignoranti catene di un mondo che in se stesso non ha senso meglio è e questa fin da tempi memorabili la tradizione indiana la quale in fin dei conti cerca la liberazione fuori dal mondo quindi qui sta descrivendo un po' direi l'ideologia degli ashram tradizionali in cui il mondo è considerato soltanto una catena bisogna liberarsi dal mondo ma non è questo il pensiero di Shri Aurobindo e di Mer e non è questo il senso dell'ashram di Pondi Shri come tutti i tentativi umani anche questo racchiude una grande verità ma non tutta la verità di fatto il divino è sì l'uno ma è anche il molteplice è sì statico ma è anche dinamico anche il mondo è lui non quell'illusione che pretende il Vedanta ecco qui precisa la differenza del Purna Yoga che finalmente riesce a comprendere sempre di più su Sat Prem rispetto agli yoga tradizionali per cui in opposizione al Vedanta classico continua Sat Prem in questa lettera Shri Aurobindo cerca di creare una vita divina attraverso la pratica di un nuovo tipo di yoga che lui chiama integrale appunto perché mira a riconciliare l'aspetto statico e quello dinamico del divino e dell'esperienza spirituale il Vedanta è infatti un'importantissima prima tappa spesso indispensabile anche se non sempre lo è prima di arrivare ad altre realizzazioni più integrali e conclude questa lunga lettera dicendo alla fine c'è la grande esperienza del vuoto interiore che non somiglia in niente a quello che noi immaginiamo poiché non è un vuoto intellettuale è un vuoto di una luminosa leggerezza è un'esperienza così intensa che i tre quarti delle dottrine spirituali si sono fermate lì e sottolineo questa frase si sono fermate lì affermando che il divino è uno ed è un gran vuoto c'è però una tappa ulteriore quella in cui il vuoto si riempie e allora ti rendi conto che bisogna davvero fare il vuoto interiore perché l'essere potesse riempirsi di una sostanza nuova ecco anche qui spiega meravigliosamente il salto in avanti il cambio di ottava di Sri Aurobindo rispetto allo yoga tradizionale non rinnegando ovviamente la conoscenza precedente dello yoga ma in questo cambio di ottava l'uno che è il punto d'arrivo del Samadhi si riempie del molteplice contiene il molteplice e quindi anche la manifestazione assume una concretezza divina una lettera ulteriore a Clary ci mostra che però l'inquietudine di Satprem continua questa sua anima inquieta si manifesta si può dire fin verso la fine della sua ricerca e gli dice ho attraversato una tempesta interiore piuttosto violenta e non riuscivo a scriverti proprio perché volevo aiutarti e non tirarti giù può essere magari un modo di aiutarti se ti parlo dell'esperienza che ho appena attraversato un mese fa le cose andavano così male che avevo deciso di lasciare l'ashram era come se una grande ondata avesse fatto venire a galla nella coscienza ogni genere di formazioni passate che io credevo di avere disintegrato una violenta ribellione mi scuoteva tutto all'ashram non potevo letteralmente più respirare mi sembrava di stare ai margini della vita di sprofondare in una pura soggettività e di automutilarmi di tutto un dinamismo ancora ben vivo persino le esperienze pur così luminose che avevo vissuto si trovavano come ricoperte da un velo al punto che mi sembrava fossero state vissute da un altro chi percorre una via spirituale sa queste alternanze patisce queste alternanze dal paradiso agli inferi dagli inferi al paradiso bisogna metterlo in conto in questo percorso da veri intrepidi e arditi guerrieri continuo in questa lettera raccontando non mi ero allontanato dall'ashram da quasi due anni quando d'improvviso mi sono ritrovato immerso in quella che chiamiamo la vita quella vita la quale agognavo con tutte le mie forze mentre all'ashram mi sembrava di morire lentamente di annullarmi in una vuota negatività però ecco la scoperta di Satprem è questa ma invece della vita trovavo ovunque in tutte le persone che incontravo un simulacro di vita senza che me ne fossi reso conto quei due anni dell'ashram avevano affinato la mia sensibilità mi avevano depurato quanto basta per rendermi più ricettivo alle cose e agli esseri persino la mia vista pareva diventata più acuta avevo l'impressione di vedere attraverso gli altri attraverso i loro pensieri i loro silenzi i loro gesti sentivo un turbinio piccino piccino e doloroso sballottato e volteggiante da un'ideuzza a un'altra da un desiderio a un altro da un passatempo e da un dispiacere ad un altro da una fame e da una sete ad un'altra ecco questo percepiva negli altri esseri umani quindi se ne andava dall'ashram perché soffocava andava verso la vita cercava di scoprire quella che lui credeva la vita e in quella vita incontrava invece un altro tipo di asfissia tutta la meschinità degli esseri umani imprigionati nei loro piccoli pensieri nei loro piccoli trastulli nelle loro miserie piccine un moto ininterrotto come quello di una vela sbattuta dal vento avevo davvero la sensazione di trovarmi di fronte a dei ragazzini infelici non ancora formati e che non lo saranno forse mai dei ragazzini che giocano alla vita ma non la imbroccano mai che si agitano da una gioia a un dolore ed esauriscono in questa altalena il senso del loro esistere di un'esistenza appesa solo al filo esilissimo dei loro piaceri del loro lavoro dei loro dolori che devono moltiplicare e sostituire senza sosta se no tutto scompare di colpo nel silenzio e nell'immobilità in un vuoto interiore di cui hanno una paura atroce atroce erano come dei corpi di morti viventi portati alla deriva dalla corrente del tempo e non ho incontrato soltanto persone superficiali ma anche persone sincere che cercano realmente di vivere ma persino in queste mi sembrava che tutto l'edificio della loro famiglia del loro lavoro dei loro amori poggiasse su un vuoto piuttosto non poggiasse proprio tutte quelle persone non erano nessuno non erano ancora qualcuno erano loro a vivere in una pura soggettività perché non erano niente al di fuori del loro muoversi niente al di fuori di quello che pensavano di se stesse niente al di fuori di quello che gli altri pensavano di loro toglile dal loro ambiente dal loro lavoro dai loro amori e non resta niente che descrizione spietata e precisa di chi non avendo una connessione con il proprio fulcro divino annega nel tentativo disperato di rincorrere continui piaceri continui stimoli che non fanno altro che ratificare il vuoto di queste anime in mezzo a quegli esseri senza vera realtà mi sentivo piuttosto sentivo in fondo a me come una roccia di realtà potente ed eterna al di là di tutti quei movimenti e di quegli esseri al di là persino del mio corpo che stava lì in mezzo agli altri e quella roccia mi appariva l'unico punto saldamente ancorato alla vera realtà del mondo c'era davvero da qualche parte in mezzo al mio petto e sottolineo in mezzo al mio petto una fiamma ardente qualcosa di lacerante che fa quasi scoppiare i polmoni come quando hai corso troppo c'era in fondo al mio cuore un essere vivo quasi estraneo a me e che pure era me e che mi gridava la sua evidenza era dentro di me dice ma che pure era me perché quell'essere è la vera identità di ognuno di noi amica ho sentito davvero che cosa vuol dire io sono era quell'essere che era nato che era lentamente cresciuto in me durante quei due anni di yoga e che veniva a dirmi vedi ci sono ci sono povero sciocco esisto sono io la realtà di questo mondo io la realtà del tuo essere e sono io la realtà di tutti quegli esseri che non mi hanno ancora trovato e per me che si agitano e soffrono per venire un giorno da me è quell'essere che dobbiamo trovare in noi l'essere interiore su cui poggiano tutte le cose che radica le nostre vite ho capito allora che il più modesto discepolo dell'ashram viveva in modo più vero e reale di tutte queste persone che incontravo ho capito dov'è la vera vita per tutti quelli che la vogliono sul serio che stiano all'ashram di Pondicherry in un boulevard di Parigi o a Malil Road la vita vera è da conquistare su di noi andando sempre più a fondo all'interno di noi no la psicoanalisi non risolve nulla non è indagando alla superficie che si può spiegare la profondità quel mondo brulicante di complessi e di piccole rimozioni si trova infatti solo a pochi centimetri sotto la superficie occorre spingersi ben più a fondo ben più in alto non è dallo psicanalista che bisogna andare ma alla scoperta del nostro essere che esiste è lì che ci aspetta ed è l'unico in grado di dar peso a questa vita di dar senso alla nostra solitudine è una frase molto importante io credo che dovremmo anche comprenderla nel senso che alla psicoanalisi ma non intesa in maniera freudiana quindi alla psicologia più avanzata io parlo di quella per esempio raichiana loweniana o anche le psicologie transpersonali spetta un compito che è quello di togliere le erbacce di superficie anche se appunto tutti i nostri complessi si trovano come dice Saprem solo a pochi centimetri sotto la superficie però offuscano la luce di ciò che ci aspetta in fondo quindi ribadisco che la psicologia non ha sicuramente gli strumenti per arrivare a quella profondità ma è la condizione che consente di arrivare a quella profondità se noi imbocchiamo un cammino spirituale perché un cammino spirituale è un cammino di verità e bisogna stare attenti che questa verità appena fiora non venga immediatamente catturata dai nostri conflitti dal nostro narcisismo e venga quindi distorta sporcata inquinata da questa parte viscida del nostro ego creando dei danni veramente difficili da immaginare io ne ho viste di queste situazioni anche persone con un percorso avanzato tra virgolette avanzato di spiritualità non avendo curato la conoscenza della struttura dell'ego avendo sottovalutato questa parte del lavoro su di sé sono esplosi in maniera anche molto negativa acquistando potere reagendo il potere sulle persone quindi questa ultima frase di questa lettera ci deve fare riflettere la lettera si conclude con un po' scritto a clarì e dice come vedi sono tornato in breve all'ashram è veramente molto molto istruttivo questo tipo questo tipo di esperienza ci fa vedere un saprem che dovunque si trovi si sente imprigionato che ha un grande anelito alla vita ma deve andarsene dall'ashram per scoprire che la vita che anela non è quella di fuori non è quella che noi impropriamente chiamiamo vita quella è un altro tipo di illusione è il vitale basso è il vitale misero che arruffa e arraffa dove può il piacere più meschino più limitato e poi deve pasteggiare ulteriormente cercando nuovi cibi di piacere in una rincorsa che non ha fine e allora doveva andarsene dall'ashram saprem per scoprire che c'era più morte in quella vita fuori dall'ashram che credeva fosse vita ma era l'apparenza ed è tuttora l'apparenza della vita e così ritorna all'ashram comprendendo che lì comunque c'era una grande verità la verità nel corpo la verità in una vita divina tutta quanta da creare tutta quanta da scoprire lui era un pioniere e quei pochi come noi che ci avventuriamo nel purna yoga con i nostri piccoli mezzi limitati in fondo soltanto perché siamo spinti da da una aspirazione sincera totalmente sincera e scomodissima aspirazione cerchiamo tentiamo siamo i pionieri di questa trasformazione ma questa avventura è l'unica per quanto mi riguarda che valga la pena di essere vissuta vi auguro ogni bene di essere un po' un po' un po' un po' Grazie.